non posso allontanarmi un vero peccato non riusciamo a venire a volte il modo migliore per trovare la verità è cercarla che ci fai come sarebbe che ci faccio sei felice robert de niro drew berriman questa è casa tua no questa è un ascensor stanno tutti bene everybody's fine mercoledì in prima serata sulla 5